Ciao Giotto, benvenuto con questi video Finalmente me ne sono visto la partita soltanto il secondo tempo Perché quando avevo messo Non si vedeva bene, al 42 Mi ho detto, ma mi metterò direttamente il secondo tempo E mi sono visto il video, però me la partita Proprio quando sono Passi i tre gol, sono un po' fortunato Perché finalmente mi sono visto una bella partita Di calcio, non perché il giorno abbia messo In discussione la partita, anzi Però almeno vedevo un po' di spettacolo Da parte di una squadra Che ne so, almeno il risultato parla chiaro 5 a 0, di che so parla L'Inter vince 5 a 0 in casa Contro il Genoa L'Inter che veramente a me piace A me piace molto come squadra, io l'ho sempre detto Però ha l'unico problema che è Discontinuo, sempre, sempre, sempre Quindi non fate prestato Sannare l'Inter che dopo farete una figura di merda La farò io, vincerà lo scudetto Ok, però l'Inter in questi ultimi anni ha sempre Fatto benissimo E poi dopo un periodo di tracollo Sempre, sempre, pure l'anno scorso All'improvviso la prima, poi dopo Ho fatto 40 ma sconfitte consecutive Quindi non lo stannate così tanto l'Inter Che comunque sta in un buonissimo momento E oggi ha fatto 5 pappine Senza Mauro Riccardi Però questo che vi voglio far capire Se avessi giocato Mauro Riccardi Eh sì ma senza Riccardi L'Inter non vinceva E che hanno 5 a 0 Nonostante l'attaccante sostituto La Toro Martinez non ha segnato Però si vede che pure se non segna Beh va a prendere palla Prova a saltare l'uomo La Toro Martinez è forte E lo dico io Se gioca tutte le partite e prende fiducia Sarà più forte di Riccardi Ve lo dico io Non Pasqua Io, io, Pasqua Vabbè comunque lo lasciano così Appunto non segni i card Segnano tutti Segnano tutti Dovete vedere un po' il bene della squadra Che avrò fatto se segni Sam Gill Eh non giochi i card Doppietta di Gagliardino E gol di Joe Mario Gol meritatissimo Perché aveva fatto una prestazione della Madonna Devo dire nient'altro E cosa significa che il mondo sta per finire Possiamo morire contenti Il mondo sta per finire Quando vedi fare a Gagliardino una doppietta A Gagliardino ho visto il primo gol Però diciamo che Gagliardino non so Anche la prestazione Però ovviamente avrà fatto una buonissima prestazione Poi gol di Joe Mario Aveva fatto una prestazione della Madonna L'aveva sempre detto Siamo assegnati pure un gran gol E questa è una cosa buonissima Siamo per Gagliardino che Joe Mario Perché erano tutti giocatori Che con fiducia dei tifosi E dell'allenatore Poi avevano zero Gagliardini tutti quanti che lo insultavano Vabbè tanto si sapete Il pensiero su quello là A me non mi piace Non mi piace assolutamente È soltanto un macellario Che fa fallo in mezzo al campo Però diciamo Se fa queste prestazioni Se fa doppietta Non lo posso paragonare a Marco Parolo Là solo a Parolo Ci si può avvicinare O essere più forte Però niente di più Non iniziate a dire Che Gagliardino è il nuovo Rummenigge È il nuovo Che cazzo ne so Il nuovo Nedved C'è una doppietta Ma verrà convocato sicuro Da Mancini Porca mignotta Comunque pure per Gio Mario Gio Mario tutti quanti dicevano Gio Mario è una merda Gio Mario è di qua Gio Mario è di là Ecco Fa ritorno all'Inter Che però manco sapevo Che era rimasto all'Inter E fa delle prestazioni Della Madonna Conditi anche con un gol Con la ciliegina sulla torta E questa sarebbe una buona idea Perché diciamo L'Inter era un altro giocatore Perché l'Inter in questo momento C'ha 11 Mi ricordo Avevo letto questa statistica C'ha 11 marcatori 11 giocatori Hanno segnato in questo inizio del campionato Cioè praticamente Segnano tutti nell'Inter E questo ovviamente È una buonissima cosa Aggiungere giocatori Come Gio Mario e Gagliardini I giocatori Che tutti quanti dicevano Che erano i più scarsi Si iniziano a segnare Pure loro Diciamo che l'Inter È veramente È molto 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 forte Ma io l'ho sempre detto Però tutti quanti Se la può giocare Soltanto per il Napoli Nel ruolo di Anti-Giuventus Anche se sapete Che il Napoli è più forte Dell'Inter A parer mio Però diciamo Che l'Inter Mettiamo un po' In confronto Le due partite Perché tutte e due Le squadre hanno fatto 5 gol Il Napoli ha giocato Sia in casa E poi l'Inter ha giocato In casa Il Napoli ha giocato Con l'Empoli Che è più scarsa Del Genuo Ovviamente Però l'Empoli Ha dei obiettivi mirati Ha degli obiettivi mirati Quello della salvezza Contro le squadre Mette sempre Il culo tanto Ha dei coglioni tanti Quindi ovviamente Ci ha messo in difficoltà Io volevo vedere Se contro l'Empoli Faceva dei 5 gol Non è che mi voglio vantare Però diciamo Il Genuo Non dico che non c'è Ogni obiettivi Ovviamente è quello Dell'Europa League Per come è iniziato Il campionato Però con Giuric Non è iniziato Benissimo il campionato E no Io non voglio Buttare colpa A Giuric Ma proprio al presidente Perché Giacco E sono Era ballardino Alla cazzo di car Vabbè Facciamo fin Che c'è stato Un motivo Però Mi prendi Giuric E sono I riballardini Proprio quando devi giocare Contro Juve Milan e Inter In due settimane E dopo a Giuric Gli fa iniziare Il campionato Con tutte le sconfitte Ha fatto un miracolo Fermando la Juventus Con un pareggio 1-1 Però diciamo Che dopo Ora con Giuric Tutti quanti Che dicono Giuric fa schifo Subito le partite Io Per dire che Giuric Fa schifo E poi Piontek Che poi non segna più Oggi l'avevamo messo Pure in panchina Cioè Piontek Che non segna più Con Giuric Ha fatto 0 gol Con Ballardini 9 gol in 7 partite Io E qui si vede Che il vero giocatore Che non è Ovviamente Per il futuro È fortissimo Non dico Che Piontek Che scarso Anzi Però dico Contro le big Non ha fatto 0 gol Contro le big C'è da vedere Perché ancora Deve giocare Contro Roma Lazio Napoli E qui Però io Per dire che Giuric è scarso Col cielo E farà male Io aspetterei Aspetterei A quando il giorno Giocherà Con squadra In cui se la può lottare Perché contro un Inter Così Venti che ci puoi fare Sì L'Inter è molto forte E 5 gol Non te li potevi prendere E poi La partita Non è mai stata messa In discussione Cioè Non c'è Proprio stata storia Qua me Ha fatto bene Buon giocatore Poi Romero Addirittura In un'altra partita Avevo detto Ma che cazzo è Romero Infatti Un buon giocatore A me piace Appena entrato Piontek Ha fatto vedere Che è un attaccante Completo Perché non ha segnato Però ha fatto salire Alla squadra Almeno quel che ha potuto Ha fatto i passaggi Sponde È un attaccante Completo Quello là A me piace molto E nel Napoli Sarebbe molto Molto ma molto utile Quindi prendete Piontek Napoli Per favore Vabbè Comunque Tralegando questi discorsi Comunque L'Inter Vabbè Appunto È proprio Preziosa Vuole il male Di Giuric Perché proprio Gli fai giocare Contro tutte Le squadre fortissime Molto Molto Superiore al Genoa Però diciamo Che se l'ha giocata Perché ha parecciato Contro la Juve Ha perso soltanto 2-1 All'ultimo minuto Contro il Milan L'unica 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 Perché è stata Proprio Questa partita Però l'Inter Veramente Quest'anno È molto forte Non è una scusante Però diciamo Che l'Inter È molto forte Se la puoi giocare Soltanto Per il secondo O terzo posto Perché per me È più forte Dei pari Roma Lazio e Milan Questo è il mio pensiero Infatti C'ha vinto Contro il Milan C'ha vinto Contro la Lazio C'è dove dire Ancora Contro la Roma Poi Fai mettendo Un'altra volta A confronto Napoli e Inter In queste partite Diciamo che l'Inter Senza i card Disegnano un po' tutti Ha segnato pure I politani Che ha detto A me piace Non so se è più forte Di Verdi Però diciamo che Verdi È un panchiraro Del Napoli Perché ha la squadra Più forte E Inter Addirittura Napolitani È il titolare Infatti È un buonissimo Gioco Anzi Ha fatto 2-3 gol Buri Già Quindi buonissimo Però Per me Verdi è più forte È più forte Polità Ci sta Avete ragione Vabbè Comunque Però Infatti Il Napoli Ha giocato Soltanto Per i Per i 4-5-6 Top player Che ha E per il grandissimo Momento Di Dries Mertens Perché senza Dries Mertens Per me Non facevo Ma Poi è entrato Da Ingolanda Ha segnato pure Quindi proprio Ragazzi Niente Niente Altro da dir Un po' Partita Che non è Del Napoli Di 8 minuti Che cazzo Devo dire più Mettetela Iscrivetevi al canale Devo soltanto salutare Ciao Gioventù